Rosa o blu? Rosa o blu? Rosa o blu? I bambini crescono per il blu con i robot addosso, le bambine crescono per il rosa senza i robot addosso. Le bambine crescono per il rosa con i fiori addosso, i bambini crescono per il blu senza fiori addosso. Piccola rosa fa il mamma non mamma ottimo, piccolo blu fa il mamma non mamma gay, piccolo blu si arrampica su un albero forte, piccola rosa si arrampica su un albero ma schiaccio, rosa cade, rosa riceve più abbracci, le lacrime rosa sono permesse, le lacrime blu devono crescere, devono crescerle un po' di palle, deve temprarsi, non essere una femminuccia blu. Ora i capelli blu sono corti, i capelli rosa vengono lasciati crescere, rosa riceve bambole, blu riceve pistole giocattolo, a rosa viene detto di essere carina, a blu viene detto di diventare muscoloso, scarpe rosa niente lacci, scarpe blu niente glitter. Ora le gambe blu iniziano ad avere i peli e le gambe rosa iniziano ad avere i peli, a blu viene detto che è virile, a rosa viene detto di raderseli, raderseli, a blu viene mostrato il sangue, nei film d'azione, lotte, orgoglio, rosa inizia a sanguinare ogni mese, le viene detto sangue, vergogna, nascondi, rosa scopre la lussuria, oh sbagliato, blu scopre la lussuria, figo, ora blu è chiamato seduttore, rosa è chiamata troia, Alle rosa viene detto che sono luminose, ai blu viene detto che sudano, ai blu viene detto di masturbarsi, alle rosa viene detto che stanno peccando, se blu non lo fa viene chiamato fighetta, se rosa lo fa è chiamata puttana. Ora a rosa viene detto di essere una signora, non sputare, sudare, puzzare, a blu viene detto di essere un uomo, non piangere e non chiedere aiuto, a blu viene detto di comportarsi da uomo, a rosa viene detto di truccarsi, a blu viene detto di essere forte, a rosa viene detto di rimanere giovane, a blu viene detto di diventare ricco, a rosa viene detto di volere figli, a blu viene detto di spiegare le cose alle donne, a rosa viene detto di spettegolare, a blu viene detto che sono loro i capi, a rosa viene detto che è di spottica, blu riceve guasti da aggiustare, a rosa viene dato il botulino, il cunnilingus è più censurato di scene di stupro o di fellazio, a blu viene detto un uomo fa questo, a rosa viene detto una ragazza fa questo. Eh già, i neonati nascono in carne cruda, benvenuti al mondo!